E' iniziato il ricchissimo cartellone di appuntamenti di Pesaro Capitale della Cultura 2024, cartellone trasversale a tutta la provincia di Pesaro Urbino e il caso del Teatro Bramante di Urbagna che giovedì 25 gennaio propone il rovescio della luce, un recital storico-teatrale proposto da Laura Corraducci. Sì, saremo al Teatro Bramante di Urbagna, proprio come hai detto tu il 25 gennaio, a ricordare degli avvenimenti importanti accaduti nella città di Pesaro ma anche nella provincia di Pesaro in questo anno, come hai sottolineato importante, l'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. E il rovescio della luce, un testo che io ho scritto qualche anno fa e che abbiamo io e Cristian della Chiara già portato in scena, mette in evidenza e cerca di raccontare in un modo, credo, coinvolgente degli episodi accaduti, fra cui anche il bombardamento di Urbagna di cui quest'anno ricorrono gli 80 anni. Non ci sarà solo il racconto di Urbagna ma ci sono altri episodi che hanno così incendiato in modo ovviamente molto violento la nostra provincia, la strage di Montecchio, di cui anche di questa strage ricorrono gli 80 anni, fino ad arrivare alla liberazione della nostra città, della liberazione di Pesaro. Filmati, immagini di repertorio, musica e un'interpretazione spero coinvolgente per il pubblico e per le persone che interverranno. E immagino per Urbagna particolarmente importante perché saremo proprio lì in un territorio che ha vissuto l'orrore della guerra. Credo che questo recital sia drammaticamente attuale visto i due conflitti importanti che stanno sconvolgendo il mondo insieme a tutti gli altri di cui si parla meno. E' importante mettere in luce la guerra per puntare su quello che conta davvero, cioè la pace. Grazie.